Il mio nome è Carmine Cataldo, praticante di arti marziali, pratico Ip Man Wing Chun e Escrima, primo tecnico in entrambe le discipline e negli ultimi quattro giorni ho avuto modo di testare l'efficacia a ZGP. Non c'è nulla di magico, non ci sono trucchetti e tutto è incredibile, però ad ogni cosa c'è una spiegazione. Sifudine è un grandissimo maestro, un grandissimo artista marziale e dovete credervi, è una cosa che funziona. ZGP è reale, dovete crederci. Grazie.